Cauto ottimismo nel primo trimestre 2023 fra le piccole e medie imprese lecchese e sondrese associate a Confapi e Lombardia i segnali sono positivi. Secondo i dati dell'analisi congiunturale, le aziende continuano con il trend di fine 2022 e evidenziano un miglioramento complessivo soprattutto relativo alla domanda interna che cresce per il 44% delle aziende interpellate. Cambiamenti in positivo anche per la produzione per il 54% delle imprese del territorio grazie anche ai prezzi che rimangono in leggera crescita. Stabili invece i costi di produzione, gli investimenti e l'occupazione rispetto ai mesi precedenti. Tra gli aspetti più favorevoli invece i rallentamenti significativi nei costi dell'energia con riduzioni marcate. Si registrano miglioramenti evidenti anche nei costi delle materie prime per il 42% delle aziende associate. Fra i segnali più importanti riguardo al fatturato viene evidenziato l'impulso proveniente dal mercato italiano per il quasi 60% delle aziende intervistate. Più stabili invece i mercati esteri con segnali però di contrazione per il contesto della Unione Europea dove il fatturato è in calo per quasi metà delle imprese. La situazione generale è buona, commenta Enrico Vavasori, presidente di Apileco Sondrio. Nonostante gli ultimi tre anni di sconvolgimenti vari dovuti al covid e al rincaro dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Il sistema ha retto bene e oggi addirittura è ripresa grazie agli ordini provenienti dall'Italia. E al calo dei costi di gas e materie prime a questo punto prosegue Vavasori. Anche come associazione di categoria a livello nazionale e territoriale, credo sia fondamentale supportare le imprese per incrementare la loro competitività, stimolare gli investimenti e soprattutto aiutarle nella ricerca di personale specializzato che resta il grande problema da affrontare da ormai troppo tempo.